E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo incredibilmente qui su Dead by Daylight Ho deciso di portarvi un bel videozzo su questo gioco perché in questi giorni sto nerdando con il killer Quindi direi di fare qualche partitozza come killer Allora sto upando il mandriano per il momento Perché c'è appunto il rituale giornaliero di dare la caccia ai sopravvissuti per un totale di ben 7 minuti E questo gioco Matomimi sta prendendo, cioè è figo raga, è davvero figo E incredibilmente riesco a giocare pure con 700 di ping E riesco a giocare anche come sopravvissuto con 700 di ping Quindi è qualcosa di bellissimo per me e sono contento Visto che appunto come tutti voi sapete giocare online con 700 di ping è qualcosa c'è proprio veramente Cioè da mettersi a piangere Questa quella tela insanguinata, quella che ci sblocca i vari oggetti, le cose e bla 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 L'unica cosa è che io ancora non so utilizzare tipo tutti i perk dei personaggi Non conosco ancora tutte queste cose Però il gioco devo dire che è veramente figo Come vedete diciamo i killer che uso maggiormente sono il mandriano e il cacciatore Anche se ancora è tutto a livello basso Lo spettro lo dovrei utilizzare sempre per appunto il rituale giornaliero Perché vedete qua c'è un coso che mi dà 18.000 quindi ci potrebbe stare Direi di non perderci in chiacchiere Startate che vi devo fare un culo così Si parte Mi mangerò le budella Mi gasa assassinare gli altri stronzi Credo di essermi dimenticato a mettere le robe Ma vabbè dai tanto vinco pure senza Ma chi ce ne importa Mi bevo il mio succo di frutta della forza Succo di frutta della forza Ideale per quando giochi a Dead by Daylight Compralo anche tu Là c'è da 80 centesimi Fa schifo al cazzo Fa cagare veramente mamma mia che schifo Come fare product placement Pevo tutorial veramente non comprate quella Veramente fa cagare Prendete l'altro E aspro da fare schifo Direi di non perderci in chiacchiere E troviamo i sopravvissuti Pupi Dove siete? Allora Oh e già lo trovo Incredibile Aspetta un attimo Ok vedete vedete dai fattibile Sì comunque non sono Cioè sì sono pure io che laggo eh Però non sono solo io Pure questo un attimino con la connessione Non è messo bene eh No raga vi giuro Prima ho giocato e riuscivo a giocare E che palle però eh Che palle Meno male che è deficiente questo qua E non sa scappare Dove sei? Dove sei? Piccolo Uh salve! Vieni da papà! No 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 Oh ti ho colpito Volevi come direbbe il carissimo Zeb Giochiamo a pendi lo stronzo E indovina chi farà lo stronzo? Dai 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 pupo Pupo Vieni qui Ebbabam Appeso Guardati che sei carino Guarda 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 Mamma mia Ti gioco alla prossima fiera Sai che devi fare il cosplay del kebab Guarda come lo fai bene Addirittura sta facendo Tenta la fuga Credo Ok non sa giocare Va bene Oh cerchiamo qualche altro Bel ragazzo Tanto alla fine Se lo liberano A me conviene Perché comunque io faccio punti Quindi Ma sì Ma sì Ma sì Uh Tipo ho visto roba che si muoveva Arriva Salve Dove sei Ah l'hanno attivato Dove sei? Due però Due generatori vicini Però Aspetta secondo me sarà qua dentro Cazzarola Ci ho provato Ah l'hanno liberato Nel frattempo hanno liberato Lo stronzo Uh stronzi Salve No l'ho palesemente colpita Ti mangio Cioè no Non ti mangio Ti appendo Come un kebab Non ti mangio Però Ma non ci scommettete Che è qua dentro Non entra Mannaggia Ma non edizione Che nessuno entra Spacchiamo sta cosa Una si è scollegata No perché si è scollegata Perché c'era What the fuck Non capisco Ma mi stanno perculando Uh Eh guarda Guarda lì là sotto Che mi attivano le cose Corri Ah 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 Eh che palle Che mincespico Nelle 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 Come cazzo si chiamano C'è qualcuno Secondo me sono qua vicino Si nascondono qua Vogliono farmi gli scherzoni Trovato Ah 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 Oh me l'aspettavo Fossi qui Pupo Ah 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 Ma sei lo stronzo sei Ah si sono scollegati in due E qual è il problema E noi ti appendiamo Ciao Ah 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 Che sei bello Ah si è lo stronzo Oh Ti ha preso Ah ancora no Ancora no Fatti prendere Dov'è l'altro bel ragazzo Pupo Signor Rubus Dov'è il mio carissimo Rubus Vallo a salvare Rubus 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 L'hai salvato Rubus Rubus No dai che ti ho visto Dai che ti ho visto Dai che ti ho visto L'hai salvato Si che l'hai salvato Che bravo il mio Rubus Il mio Rubus Ciao Ti nascondi Rubus Ah 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 No dove dove ti sei messo Rubus No Rubus Non ti mettere dentro l'armadio Rubus Non si fa Rubus Ah 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 Fa il che bambè Rubus Eh 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 Povero piccolo Rubus Dov'è il piccolino Piccolo Stronzetto Devi salvare la piccola Eh Lo stronzetto Non la salva Lo stronzetto Non la salva Eh eh E a me va bene Questa cosa Povero Piccolo Rubus È morto Povero Rubus Sacrificio Dov'è il mio Piccolo Stronzetto È stato il primo che ho preso Ed è rimasto l'ultimo Stai seriamente Continuando a ripararli? Bruus Bruus Ma che mi combini Oh povero Piccolo Che 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 Vabbè pure io sono un killer Un po' deficiente E mi tocca Povero piccolo Bruce Ritorna A fare il kebab Che bello giocare da killer Sacrificio Nessuno è riuscito a fuggire Mi piace il mandriano Con la sua motosega è veramente Bam Signori Rango 19 Non che sia Chissà incredibile però Ehi E ci siamo portati a casa 13.000 punti Tec Rubus è stato quello che ha giocato meglio Gli altri due si sono scollegati Ma perché Forse saranno crashati Non lo so Però dai facciamone un'altra ragazzi Mamma mia quanto cavolo Uh a Ciment sblocca con miglioramenti Aspetta come si sblocca su a Ciment Aumenta il tuo rango per la prima volta Oh che sono carino Mi sa che il pappagallo ha cagato Lo faccio uscire E dove eravamo rimasti Allora siamo ancora due minuti Dobbiamo per sette minuti inseguirli Creiamo un'altra lobby E nel frattempo Voglio scegliermi l'equipaggiamento Allora non ho altri perk Va bene Volendo potrei utilizzare queste cose Ma si dai Utilizzo l'olio vegetale E questo Ma che me ne frega Ma si Ma si Tac Vedete Andiamo nella tela insanguinaria E utilizziamo i punti che abbiamo appena fatto Per salire ancora di livello Continuiamo Sblocchiamo questo Gli stivali che ci possono tornare utili Uh Memento mori di legno di cipresso Uh Cosa figa Bam Signori E saliamo al livello 4 Yes Scatola misteriosa Spranga lunga Fatemi sapere qui sotto nei commenti Se vi piacciono i video di Dead by Daylight Almeno a me piace giocarlo eh Comunque davvero mi diverte Soprattutto il killer È davvero Mi piace Cazzola mi piace E secondo me Se gioco col personaggio del DLC nuovo Oddio non mi ricordo mai come si chiama Michael Mi viene Michael Bay Ma non si chiama Ma Michael Mayer Mi sa Ok Michael Mayer Oddio non mi ricordo Se acquista il DLC Secondo me Cioè quello lì è veramente O più quello lì Sopravvissuti Startate Mi ci berò delle vostre carni Cioè anche se alla fine non vi mangio Però io c'ho una motosega Cioè quindi porca di quella Oh ed eccoci qua Nella tenuta Macmillan La ferriera del tormento Che bello Che top Cominciamo Già da subito con la sega Utilizzando la sega ragazzi Vedete Accumuliamo punti Vedete Ora mi da Vedete 44 punti Che sono ottimi Sono ottimi Oh Piccola pupa Ti ho già trovato Oh tesoro Vai un po' a scatti Ma frega cazzi Oh Ma duri molto poco Pupa Ti appendo lì Ti appendo lì Per favore puoi non dondolarti Che mi stai facendo venire Il mal di mare Non ti dondilare Che ti devo appendere Dobbiamo giocare al kebab Oh perfetto Fa Fa Oh bella pupa Mi piace Allora secondo me C'era qualcuno Che mi inseguiva Ok questa qua non sa giocare Ragazzi Mai fare tenta la fuga Cioè perdi un casino di vita Ma se gli do un colpo Perde vita? No non perde vita Ok Semplicemente è giusto Per maltrattare I poveri Stranzetti Mi state dicendo Che siete qua vicino Oh si Stai ancora riparando Pupa 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 Che mi stai Però si Però l'ho persa L'hanno Ma perché sono in tre? Aspetta uno è morto Cioè è morto Non l'hanno salvato Ma veramente Non l'hanno salvato MINGIA Ma come faccio A fare punti È morta Stai continuando A riparare qua? No Esatto Mi stai veramente Dicendo questa cosa? Che mi sei venuto addosso? Secondo me è salito troppo Non so perché Ma secondo me è salito E invece no Non è salito Piccoli Dove siete? Voglio giocare con voi Che poi non si curano Cioè guardali Guarda Curatemi Deficienti Mamma mia Ma picchi siete scalzi Ma fatemi giocare Con sopravvissuti Che stanno sopravvivere Ho visto qualcosa Che si muoveva Penso che era impressione mia Questo generatore Non l'hanno minimamente Toccato Però non stanno Sbagliando generatori Quindi o sono bravi O hanno talmente Tanta caga Che è veramente Ma veramente Mi stai dicendo Comunque si stavano Curando eh Io l'ho ammazzata Però non la trovo più eh Ma tornami È tutto così scuro Non vedo più niente Oh ragazzi Vi giuro Non trova il corpo Tesoro Tesoro Quando hai le cuffie Segui i suoni Povera Piccola Stupida Pensavi veramente Di sfuggirmi Davvero Pensavi veramente Scendiamo di sotto Che ti voglio Si sta liberando Quindi dai Liberati Oh raga Non si vuole liberare eh Quindi io ci ho provato Non si divincola Che è colpa mia È deficiente Oh ti volevo far liberare Una volta che sei stupida Che è colpa mia Te appenditi qua Ah sei liberata Ti sei liberata Appena siamo arrivati Qua davanti Sacrificio Ma si arrendono Ma si arrendono Ma ci arrendono Ma fatemi giocare Ma si arrendono Ma vinco per resa Non ho fatto punti Perché ragazzi Arrendono Che palle Ma me la fate fare una Ma to me Me la fate fare una Startiamone Una terza Sperando di trovare Quanto meno qualcuno Che si faccia dare E dai Joni Mi perdoni Su Vuoi saltare Ma perché devono aspettare Tutti i secondi Non è che se il gioco Ti dà un minuto Per scegliere le cose Te lo devi per forza Prendere tutto Cioè Cazzarola E cosa avete attivato Un po' di fortuna Deposito demolizioni Ok non è tanto scura Come mappa E questa cosa Mi va benissimo Oh sono Io contro quattro Grandioso Giochiamo a falcia Lo stronzo Io gioco a falciare Voi fate gli stronzi Si cazzo Scuccia un po' di tosse Fare il cattivo Non è facile Che bello L'ho trovato Proprio a caso Sono andato Verso un generatore Con la motosega E sei stato Molto sfortunato Cucciolo Nel frattempo Stanno esplodendo Tutti i generatori Qua vicino Addirittura due Mi stanno facendo Rincoglionire Questi qua Allora Dove siete Pucci Pucci Nessuno va a salvare Il loro amico Ah si che l'hanno salvato Il loro amico Oh tesoro Piccolo Ma veramente Mi stai dicendo Mi scappano sempre Questi stransi Sì comunque I generatori Fanno letteralmente Cagare Comunque Sto cosa Lo distruggo Bam Qua dovrebbe esserci Un generatore Eccolo là Facciamo una bella cosa Arrivo Arrivo Dove sei Oh tesoro Però Non stai attento Amore E nel frattempo Andiamo a vedere Questo bellissimo Generatore Che lo stanno facendo Aspetta Intanto ti appendiamo Amore È bello Oh ma sei quello di prima Dovresti morire adesso No Ma veramente Mi state dicendo Ma veramente Mi state dicendo Cioè davanti a me Siete venuti a salvarlo Ma veramente Ma siete davvero Così scarsi Ma sul serio Mi stai dicendo No vabbè No vabbè Allora intanto Mi serve un Oh ma dove cazzo Sono i ganci Ma si sono scollegati No vabbè ragazzi No veramente Si sono scollegati In due Ma to me Raga vi giuro Quando gioco Senza registrare La gente Non si scollega È qua Il cucciolo È qua Salve Ti ho visto Perché non scappa Vabbè Oh non scappi Però Scappa Ma perché non scappa Il povero Piccolo Poor the bird L'ultimo È rimasto Povero Piccolo Mi dispiace Adios Come vedete Come killer Non faccio poi così cagare Certo Come sopravvissuti Più che altro Loro si Fanno veramente cagare Che vittorie impietose Le sto facendo tutte così Tutte vittorie impietose Ma to me Sono fottissimo Comunque Come vedete È giocabile Quanto meno Riesco a giocare Con 700 di ping Ho fatto 13.000 Ammazzandone soltanto due Cavoletti Cioè Se ammazzavo gli altri due Facevo 26 Comunque 20.000 Circa Sicuro Che cavolo questa cosa Cioè guarda usano le cose E poi non giocano Ma to me che fastidio Ma Detto c'ho io Spero tantissimo il video Oggi vi sia piaciuto Fatemi sapere la vostra Qui sotto nei commenti Lasciate un bel mi piace Appunto per supportare E per farmi capire Se vorreste Altri video Su questo gioco Secondo me Merita davvero tanto Comunque Mi piace Davvero figo Giocarci E nulla Noi ci vedo In un prossimo video Vi voglio bene Ciao ciao Oh yes